Buongiorno a tutti, ovviamente mi associo ai ringraziamenti di chi ha organizzato, chi ha lavorato, a tutte le donne delle istituzioni, professioniste, dirigenti di partito che lavorano sulle donne e attentissime a tutto quello che accade, dando gli strumenti anche normativi per migliorare la condizione delle donne. Sono un medico di Napoli e come medico sempre davanti la lotta alla diseguaglianza e vorrei sottolineare che esiste anche all'interno della comunità femminile una diseguaglianza. Le donne di Napoli, le donne della Campania lavorano meno, guadagnano meno, si ammalano di più e muoiono anche prima delle donne del nord. Questa è una condizione particolare e che dovrà vedere impegnato anche le attività del partito della nostra regione e su questo chiedo ovviamente anche il supporto e l'accompagnamento anche di questa conferenza, su temi anche di diseguaglianza all'interno delle donne. Grazie.